cari amici di mille un'avventura vi ricorderete sicuramente tre mesi fa l'uscita da parte di ubisoft di prince of persia the lost crown un metroidvania che ripescava nel passato le gesta del principe di persia che sicuramente tutti voi che c'eravate avrete giocato negli anni 90 il mitico personaggio che doveva saltare da una parte all'altra di un dungeon per andare a salvare una principessa con un'ora di tempo e ci abbiamo perso altro che un'ora per compiere questa impresa ebbene una cosa interessante è che questo prince of persia tre mesi fa era uscita l'ultima iterazione risale come dicevamo al 1989 originariamente per apple 2 il mitico jordan mechner aveva digitalizzato con le tecniche dell'epoca i movimenti di suo fratello per realizzare il movimento molto realistico del personaggio il principe di persia noi l'abbiamo ovviamente giocato su pc anni 90 direi verso il 92 potrei averlo giocato uno dei giochi per pc che ho giocato di più all'epoca perché era davvero impossibile portare a termine l'impresa e qui vediamo i movimenti dove vedete il personaggio che salta gli spuntoni i pugnali che escono dal pavimento la spada che poi ci servirà per combattere i vari nemici le fiaccole che bruciano all'epoca su un pc vedere cose di questo genere era davvero strabiliante non c'era ancora il 3d che ormai pretendiamo tutti però era davvero una cosa interessante vedere questo gioco e quindi merito a jordan mechner che ha lanciato poi una saga perché ci sono stati dei seguiti e ci siamo divertiti a giocarli ora 1990 diciamo così 89 visto che era uscito per apple 2 prima e qui abbiamo invece il vic 20 che è un computer del 1980 ben 9 anni prima diciamo 10 anni prima anche 12 o 13 anni prima che io giocassi il principe di persia una macchina di questo genere che ovviamente aveva delle limitazioni rispetto al nostro amatissimo commodore 64 però di successo perché ne sono stati venduti prodotti 2 milioni e 500 mila esemplari la cpu era il 6502 che poi in una sua versione equipaggerà anche il commodore 64 c'era il vic prima versione vic 1 20 kilobyte di rom 5 kilobyte di ram di serie però si poteva montare una ram massima di 64 kilobyte ora abbiamo dovuto aspettare una decina d'anni dall'uscita del vic 20 per giocare a prince of persia sui pc o su altre macchine l'amiga l'apple 2 ma ora dopo 40 anni è uscita questa strabiliante notizia sul gruppo facebook commodore italia vic 20 a parte di possibili truffatori che ci dicono qui ma non sappiamo di cosa stiano parlando ecco non comprate comunque cose troppo a basso prezzo prima indagate su chi li vende questo ovviamente è una buona regola ma guardate qui la notizia prince of persia principe di persia sul vic 20 abbiamo dovuto aspettare 40 anni 40 anni dall'uscita circa del vic 20 30 anni dopo l'uscita del principe di persia prima versione e a quanto pare qualcuno è riuscito a realizzare l'impresa di portarlo sul vic 20 sarà vero non sarà vero allora proviamo proviamo perché non ci crediamo il vic 20 ecco lo trovate qui su sleeping elephant.com c'è la copertina anche ha realizzato la copertina l'autore ci sono degli screenshot e c'è scaricato 21 volte questo attachment andiamo a vedere se funziona davvero o se è un lechac è quello che ha postato il la notizia del 13 aprile quindi sono già un po di giorni che è in giro vic 20 28 159 byte liberi ma semplicemente perché senza sapere nulla ecco qui i settings ho già messo tutta la ram possibile perché immagino che ci voglia un po di ram per far girare 5 kilobyte dovrebbero essere pochi comunque lo schermino del vic 20 è davanti a noi e adesso ci carichiamo il file in assenza del sultano il gran visir jaffar governa quella con vabbè la storia la conoscete vuole sposare la principessa lei non vuole c'è un'ora di tempo per andarla a liberare ecco qui che lo dicono e quindi ora c'è il caricamento chissà quanto sarà lungo questo caricamento per adesso la musica c'era le schermate iniziali c'erano non erano coloratissime come la versione per pc però rendevano l'idea era proprio il principe di persia che abbiamo conosciuto a inizio anni 90 su un computer che non era più prodotto da almeno sei anni da quando è uscito il principe di persia originale perché non facevano giochi di questo genere beh ovviamente giochi di questo genere sul vic 20 li facevano ma c'era bisogno di tanta ram e quindi probabilmente molti che avevano il vic 20 avevano la ram di base e non potevano far girare giochi di questo tipo ora quasi quasi faccio partire il warp perché il caricamento è piuttosto consistente adesso non ho guardato le dimensioni del file sul disco però immagino che occupi gran parte della dimensione del fatto che ci sia un led rosso mi preoccupa velocizzo ecco basta vedete siamo qui ci sono le fiaccole che bruciano fiamme rosse i colori che vediamo sono il nero di sfondo il bianco il ciano il giallo delle torce il rosso delle fiamme però chiaramente a seconda ecco che si sentono i passi non so se questa è la versione che contiene un bug ma una serie di bug comunque vedo che non sono riuscito ad appigliarmi non so perché non si è riuscito a salire e qui riusciamo a passare ma tanto qui non si va da nessuna parte vediamo quando passa ecco vedete il trucchetto per avere i colori diversi praticamente la fiamma è rossa e quando ci passa sopra il personaggio si blitta la bitmap però vedete rimane il colore rosso e così sotto il colore giallo mentre se scendiamo sotto il nostro personaggio è dietro quindi non si vede se questo insomma questo è il vice per il vic 20 quindi all'emulatore funziona e tutto ciò è incredibile vedete le animazioni ricordano tantissimo quelle del gioco originale adesso qui crolla tutto dovrei fare un passettino devo girarmi e scendere nulla da dire su questo gioco è davvero fatto benissimo e vediamo se troviamo qualche bug adesso qui dovrei correre fin laggiù sotto ci saranno gli spuntoni vediamo come rendono sono riuscito a saltare adesso devo fare un passetto qui per aprire vedete le lame sotto e ora possiamo passare dall'altra parte anche qui bisogna fare pian pianino stavo per precipitare giù devo andare qui per aprire devo correre e come vedete e dobbiamo ricominciare da capo premendo spazio abbiamo 57 minuti a nostra disposizione perché abbiamo già sprecato tre minuti nel nostro tentativo fallito incredibile poi adesso dovrei riuscire andare avanti però mi pare che incontrare trovare la spada passettino giriamoci scendiamo trovare la spada sia molto in là e quindi non cosa si trova da questa parte ecco vedete abbiamo già trovato il nemico che ci infilzerà già infilzati la spada si trova dall'altra parte così per renderci contro per chi fosse all'oscuro del principe di persia ma chi non l'ha mai giocato anche di quelli giovani penso più giovani intendo dire di 50 anni e penso che tutti più o meno l'abbiano incontrato ma andiamo a vedere la versione per pc facciamo un breve confronto e ci salutiamo ecco qui la versione per pc alzo un po il volume perché mi sembra un bassino la musica è quella anche se realizzata con i mezzi del vic 20 quella che avete sentito prima poi c'è la storia c'è il visir che arriva tutta la scenetta che dice tra un'ora se non mi sposerai morirai vedete si avvicina c'è la musica i lampi questo sul vic 20 tutto questo non è stato fatto c'è la clessidra con il tempo che passa ed ecco qui il nostro principe di persia si può fare così per andare più velocemente già andato a sinistra si sente anche il rumore di quando va a finire contro la parete si sente il rumore della grata che sale e questo è il pezzo che abbiamo fatto prima assolutamente identico quindi complimenti al non mi ricordo più come si chiamasse che è riuscito a realizzare un'impresa rendendo l'atmosfera del principe di persia sul vic 20 neanche sul commodore 64 dove probabilmente qualcosa del genere c'era già non ho controllato ed ecco qui la spada che possiamo adesso usare per difenderci contro gli scherani del visir e per completare andiamolo a vedere sul commodore 64 siamo sul canale di sala giochi 1980 ci fanno ci mostrano questo gameplay di mister seed 2011 perciò già diversi anni che è disponibile vedete quanti bei colori ma qui siamo sul commodore 64 la musica è addirittura meglio dell'originale perché la sta suonando il seed e poi andiamo un po' avanti ecco qui c'è la scena iniziale che avete visto prima chiaramente una grafica un po' più pixelata ma c'è la musica ci sono le animazioni un po' di colori rispetto alla versione vic 20 ecco che arriva il visir vediamo se hanno reso anche i lampi si avvicina fa la proposta viene rifiutato aspettiamo con fiducia che ecco è proprio uguale sul commodore 64 all'originale però qui mi pare sia stato realizzato nel 2011 anche qui abbiamo dovuto aspettare un po' per vederlo andiamo avanti vediamo un po' di gameplay ecco qui si vedono chiaramente più colori non ho visto quando è passato ovviamente con gli sprite questi sono sprite non caratteri quando passa davanti alle fiaccole il personaggio realizzato con uno o più sprite ha appunto il insomma rimane dei suoi colori è solo un po' pixelato vedete perché sono sprite realizzati in multicolor e quindi bisogna mettere accanto due pixel anche la grafica mi sembra che sia non lo so potrebbero essere semplicemente dei caratteri in effetti sarà lo schermo a caratteri e non in alta risoluzione ed ecco qui che stiamo rivedendo la stessa scena di prima però sul nostro amatissimo commodore 64 che si riesca a riprodurre una cosa di questo genere sul vic 20 è davvero stupefacente è chiaro che abbiamo dovuto mettere un po' di ram aggiuntiva ed ecco che va ad aprire e tra poco andrà a prendere la spada vedo che se la giochi 1980 sa giocare come me infatti si è schiantato nello stesso punto e lì ha chiuso il gameplay bene se volete provarlo vi lascio il link qui sotto mi pare che ci sia scritto da qualche parte che sta sistemando dei bug che erano stati segnalati e quindi non so se rimarrà il link giusto comunque vi linko la pagina e poi basta cercare e si trova ed ecco qui che il nostro principe vedete chissà che ora ma mancano 50 minuti qui potevo fare eccoci giriamo io so fare questo pezzo così molto safe e andiamo subito a incontrare il nemico che ci sistema e premete spazio e mancano 49 minuti grazie a tutti per essere arrivati fin qui ditemi cosa ne pensate scrivendo qui sotto i vostri commenti e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti su youtube c'è un canale chiamato mille una avventura che ci insegna a programmare giochi multi play lezioni di codice avventure virtuali un mondo digitale pieno di emozioni e speranze mille una avventura sempre pronto a imparare segui tutorial e prova a creare con il codice e la fantasy insieme a giocare un'avventura digitale un'avventura digitale che non potrà mai finire potrà mai finire